Dai, fermati! Poi è mezz'ora che ti aspetto sotto casa. Sì, ogni tanto ti fai vivo. Poi sparisci per settimane, come ti gira, no? Sì, ma ti stavo preparando una sorpresona. Che, non ci credi? Dai, fermati che ti faccio vedere. Ti ho, guarda. Raul e Cosimo Tempio. Bello, no? E che? Non ti piace Cosimo? Ti do Raul, se vuoi. Guarda, l'idea dei nomi falsi me l'ha dato un mio amico. Guarda, Dario, io stasera parto. Me ne vado in Grecia. E voglio che tu vieni con me. In Grecia? Sì. E la scuola? Ma che scuola? Ma figurati, la scuola. Hai detto che volevi stare con me? Sì, ma... Ma cosa? Senti, Mauro, l'idea è una figata. Però scappare di casa è un po'... Però puoi sempre pigiare. Eh, sì. Stiamo un po' insieme. Poi decidi, no? Dai, va bene. Bravissimo. Andiamo su. Scendi qua, dai, ci vediamo dopo. Dove vai? Ho detto che stavamo insieme oggi. No, ma devo finire ancora di sbrigare delle cose. Tranquilo, ci vediamo dopo, dai. Claudio! Te lo affido. Io vado a sbrigare quella faccenda, mi raccomando, eh. Grazie. Come va? Ciao. Occhio. Mmh. Ciao. Ciao. Ciao.